Abbiamo caratterizzato il nostro campus nella logica della sostenibilità 360 gradi, il tema della sostenibilità dal punto di vista anche dell'economia ligure è un tema importante perché si può caratterizzare il territorio a fianco al turismo, alle ricadute diciamo che il turismo può portare anche con un'economia legata alla sostenibilità, ai saperi che questa si porta dietro e alle tecnologie che questa consente di sviluppare.